Buonasera a tutti, mi presento in maniera molto rapida e molto sintetica, sono insegnante di materie letterarie latino e storia nel liceo e appassionato di storia, cultore di storia, è per questa ragione che ho raccolto molto volentieri la provocazione che mi è stata rivolta da Don Massimo di presentare e confrontarci insieme sulla figura di Papa Pio XI, una figura che anche nell'ambito dei miei studi ho incontrato un po' tangenzialmente, non in maniera particolarmente approfondita, sono più antichista e medievista, però dall'occasione anche dell'incontro di questa sera è nata la possibilità di approfondire la figura di questo pontefice che sicuramente si segnala come moderna e per tantissimi versi addirittura profetica. Innanzitutto io vorrei dividere il momento della mia conversazione con voi sostanzialmente in tre fasi, una cornice storica sul periodo in cui Paparatti prima da annunzio apostolico, poi da arcivescovo di Milano, cardinale e quindi pontefice ha operato perché è fondamentale per aiutarci anche a comprendere le linee guida del suo pontificato. Poi gli elementi fondamentali che hanno costituito il suo agire, il suo magistero, anche in un certo senso le radici culturali della sua personalità. E da ultimo, in maniera anche abbastanza sintetica, anche perché vedo che è stato organizzato un ricchissimo programma di manifestazioni e ci sarà anche chi parlerà in maniera ben più dotta e più colta di me, però alcuni cenni sui suoi interventi, sulle encicliche e anche sulle allocuzioni che lui a più riprese ha elaborato e indirizzato alla cristianità come risposta anche alle grandi sfide del suo tempo, in particolare il rapporto con i nazionalismi, con le dittature e addirittura con i regimi totalitari. Anche perché il suo pontificato che si colloca tra il 1922 e il 1939 si viene a collocare in una fase delicatissima nella storia della Chiesa contemporanea. Innanzitutto, come punto di partenza per comprendere le linee guida del suo magistero, dobbiamo sottolineare il fatto che l'Europa e l'Occidente erano reduci da quella che è stata definita la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che alla fine del 1918 può dirsi conclusa e può dirsi conclusa con una gigantesca quantità di macerie. Un grandissimo filosofo italiano, Benedetto Croce, disse che la conclusione del conflitto e soprattutto anche le paci, i trattati di pace, gli accordi di pace di Parigi, di Valenciennes, di Sèvres, che conclusero di fatto il conflitto, posero in realtà le basi non per una pace duratura, ma per i prodromi di un nuovo e ben più grave conflitto. Quindi una situazione di conclusione di un conflitto più per lo sfinimento dei belligeranti che non per il raggiungimento di un autentico equilibrio politico. Anzi, da questo punto di vista, nell'Europa degli anni 20, noi possiamo notare come tutti gli equilibri che in un certo senso durante tutta l'età moderna avevano rappresentato l'architrave dei sistemi di alleanza che nel bene o nel male, eccezion fatta magari per la parentesi napoleonica, avevano garantito una forma di pace abbastanza sostanziale all'Europa, sicuramente almeno dal 1815 al 1918, la famosa Santa Alleanza, ebbene questi equilibri erano, potevano dirsi ormai, infrantumi, polverizzati e polverizzati anche perché erano venute meno quelle potenze che di tali equilibri erano state garanti nella storia, penso per esempio all'impero d'Austria, oppure all'impero tedesco, ma anche all'impero russo e all'impero ottomano, quattro potenze territoriali che erano state alla base dei principali sistemi di alleanza, la triplice alleanza e la triplice intesa. Il fatto che questi stati fossero stati smembrati, si fossero indeboliti o addirittura, come nel caso della Russia, avessero cambiato completamente e drasticamente sistema di governo in Russia a partire dal 1917, si afferma la prima grande dittatura totalitaria della storia moderna, se facciamo eccezione per la parentesi terribile del terrore durante la rivoluzione francese, quindi il periodo che va dal 1793 agli inizi del 1794. Però in Russia, ormai si chiamava Unione Sovietica, si era consolidato il primo regime nei confronti del quale tra l'altro Papa Ratti, che ben ebbe l'occasione di conoscere come enunzio apostolico in Polonia, le caratteristiche saliene di tale dittatura che egli definiva intrinsecamente perversa, come avrà modo poi di sviluppare, la riflessione che avrà modo di sviluppare nella famosa enciclica Divini Redemptoris, rappresentava tale dittatura un sistema politico profondamente e costitutivamente anticristiano. Quindi c'erano tanti fattori di preoccupazione all'attenzione della diplomazia vaticana che tra l'altro non era nemmeno riconosciuta come protagonista sullo scacchiere politico europeo in quanto pagava sostanzialmente lo scotto di una rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia che datava dal 1905 e tra le altre cose anche lo stracismo del nostro governo, del Regno d'Italia che dopo la cosiddetta legge delle guarentige del 1871 e sostanzialmente dopo la rottura conseguente alla conquista di Roma manumilitari da parte del Regno d'Italia nel 1870 aveva rotto ogni relazione con la sede apostolica. Quindi la Chiesa che era una istituzione che aveva una straordinaria esperienza di tipo diplomatico nello scacchiere europeo, ricordiamoci che la diplomazia moderna nacque con i nunzi apostolici, cioè con gli inviati del pontefice presso le principali corti europee, figura che inizia a segnalarsi almeno dal 1400. Quindi la Chiesa si vide in un certo senso preclusa la possibilità di agire in maniera, venne per esempio esclusa anche dalla Società delle Nazioni, potremmo definirla la forma embrionale dell'attuale ONU, che è un'istituzione sovranazionale che avrebbe avuto come obiettivo quello di dirimere con la pace, con gli accordi diplomatici, con interventi di dissuasione, eventuali occasioni di conflitto che si fossero presentate all'indomani degli accordi di pace ormai siglati. Quindi una Santa Sede che pur a fronte dell'esperienza accumulata addirittura in secoli era sostanzialmente ostracizzata, come vi dicevo, una Santa Sede che era rappresentata da un pontefice come Benedetto XV, il pontefice che nominò Achille Ratti prima prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, poi nunzio apostolico in Polonia tra il 1919 e il 1921, quindi arcivescovo di Milano, cardinale e ponendo di fatto le premesse perché di lì a pochissimi mesi, alla morte del Papa avvenuta il 22 di gennaio del 1922, egli potesse subentrare dopo un travagliato conclave di diversi giorni al soglio pontificio appunto come Pio XI. Dicevo che la Chiesa si trovava di fronte alle macerie di un equilibrio europeo che avvertiva era estremamente instabile, precario. Ricordiamo che dalla disgregazione di imperi come l'Austria-Ungheria, come l'Impero Ottomano, la famigerata polveriera balcanica, la stessa Russia, nacquero per esempio le Repubbliche Baltiche, si svilupparono degli stati estremamente fragili, delle democrazie anche neonate con una classe dirigente estremamente impreparata per raccogliere la sfida di un equilibrio tutto da costruire. Da una parte quindi una situazione estremamente instabile, dall'altra le potenze uscite sconfitte, la Germania, la Repubblica di Weimar che ben presto arriverà a covare sentimenti di rivincita, di riscatto e che verrà in un certo senso un po' dalla crisi economica, un po' dall'isolamento nel quale sarà in un certo senso condannata anche dall'atteggiamento delle potenze vincitrici, troverà una ragione di riscatto nell'affermazione assurda e pericolosissima di una superiorità etnico-raziale con il Reich itleriano a partire dal 1933. Dall'altra parte abbiamo le potenze uscite vittoriose dalla guerra, la Francia e l'Inghilterra in primis, potenze con le quali la Santa Sede non aveva ancora relazioni diplomatiche e l'Italia, il mito della vittoria mutilata, cioè di una vittoria a metà che non aveva corrisposto la restituzione di altrettante terre considerate irredente, comunque era nei confronti della sede apostolica, almeno in questa fase, un nemico dichiarato, un oppositore. È in questa situazione estremamente delicata che il pontefice Benedetto XV designa Achille Ratti per la sua grande cultura, per la straordinaria versatilità anche nella conoscenza delle lingue. Era in grado per esempio di comprendere correntemente lo slavo. Lo invia come enunzio apostolico in Polonia, il primo ambasciatore di uno stato straniero in Polonia, anche perché la Repubblica di Polonia era uno di quegli stati sorto dalle ceneri degli imperi centrali di cui vi ho parlato in precedenza. Nel corso di questa sua esperienza, anche dai risvolti estremamente coraggiosi, perché quando l'Armata Rossa arrivò nell'estate del 1920 a minacciare direttamente Varsavia per rovesciare il regime repubblicano del maresciallo Piussulski che si era consolidato nello Stato, fu soltanto il Monsignor Ratti a non abbandonare questo Stato al suo destino, ma a rimanere, ad incoraggiare la popolazione alla resistenza. Nel corso di questo triennio di enunziatura apostolica, egli ebbe modo di rendersi conto, lo dirà, lo lascerà scritto nelle memorie raccolte dal suo segretario particolare, divenuto poi il Cardinale Confalonieri, ebbe modo di verificare la pericolosità del comunismo bolscevico, sia in politica estera che soprattutto nella organizzazione interna della società che si andava delineando negli Stati sovietici. Il Papa però lo chiama ben presto l'anno successivo, lo fa ritornare in Italia, lo nomina arcivescovo di Milano e di lì a pochi mesi, come vi dicevo, la nomina risale al giugno del 1921. Il 6 febbraio del 1922 lo vediamo affacciarsi primo Papa nella storia contemporanea, affacciarsi dalla loggia esterna di San Pietro, questo era un segno di distensione, ricordatevi che da Pio IX in avanti, dal 1870 in avanti, il Papa si considerava prigioniero in Vaticano. Impartisce la benedizione urbi e torbi alla città e al mondo, come da quel momento in poi si effettuava anche nel Medioevo, ma dal palazzo, dalla loggia del palazzo apostolico lateranense. Da questo momento diventerà prassi dei pontefici rivolgersi alla folla e nel suo caso fu una semplice benedizione, naturalmente in latino. Già da Pio XII in avanti ci sarà anche l'occasione per una breve riflessione, una sorta di dialogo tra il pontefice neoeletto e la folla dei romani che idealmente rappresenta l'intera cristianità. Se il contesto storico è quello che vi ho rapidamente delineato, quindi un contesto segnato da assenza di punti di riferimento per la diplomazia mondiale e anche per la pur esperta ed efficace diplomazia vaticana. Una situazione di grande instabilità a livello europeo per la formazione di stati dalle strutture politiche molto labili, molto fragili, che rapidamente nel corso degli anni 30 saranno più o meno o fagocitati direttamente dalla Germania, pensiamo all'Anschluss, l'annessione dell'Austria nel 1938, oppure si doteranno di regimi politici dittatoriali, generalmente di destra, anche perché stati come l'Ungheria, come la Cecoslovacchia, come la stessa Polonia avevano ai loro confini orientali l'Unione Sovietica che con il suo assetto politico dittatoriale e totalitario rappresentava soprattutto per le classi borghesi e per le classi dirigenti dei neonati stati una sorta di fonte di deterrenze, di preoccupazione perché si voleva in tutti i modi evitare che la dittatura bolshevica si estendesse anche verso Occidente. E soprattutto un primo regime totalitario come quello sovietico che negava, come vedremo più avanti, ipso facto, la possibilità di una relazione intima e fondante dell'uomo con Dio. Poneva la concezione come paparatti nell'enciclica Divini Redemptoris osserverà, ne leggerò un rapidissimo estratto anche per cedere ogni tanto la parola proprio a lui, lui individuerà nella concezione marxista dell'uomo economicus, cioè dell'uomo inteso come res, come materia che nella sua vita risponde innanzitutto a sollecitazioni e a bisogni di natura economica. Per cui il compito dello Stato è soddisfare questi bisogni e fare dell'uomo un ingranaggio della macchina sociale, eliminando situazioni di conflittualità che possono essere la lotta di classe, le differenziazioni sociali e fornendo, come dirà la studiosa Anna Arendt, la massima studiosa contemporanea dei totalitarismi, una ideologia, cioè una forma di pensiero onnicomprensiva e servendosi del terrore per incuterla in ogni uomo, per eliminare qualsiasi opposizione interna, avvalendosi anche del terzo elemento che è costitutivo di un regime totalitario che si chiama la propaganda. Allora, se questo è il contesto, quali sono le caratteristiche di questo Papa? Io prenderei le mosse da un'affermazione provocatoria che risale al 1931 e che dobbiamo al Duce. Benito Mussolini, che sarà in un certo senso un interlocutore con il quale Paparatti dovrà misurarsi, lo definì con disprezzo all'indomani di una serie di attentati nei confronti di sedi e oratori dell'azione cattolica, una serie di attentati rispetto ai quali il Papa reagì con durezza impegnando di tasca propria delle finanze vaticane 500 mila lire d'oro dell'epoca per rifondere i danni e dotare di nuovo quelle strutture di una loro funzionalità. Benito Mussolini lo definì sprezzantemente questo Papa Brianzolo, come a dire un piccolo uomo, un piccolo pontefice. È un giudizio che tra l'altro è stato maldestramente anche recepito da certa storiografia, ahimè, anche cattolica degli anni soprattutto 60, penso ad Arturo Carlo Imolo, che vide nel governo di questo Papa uno lo definì uno dei pontificati più grigi degli ultimi cento anni, ma con un giudizio probabilmente un po' ingeneroso. Anche perché rispetto a un Benedetto XV e a un Pio XII, cioè i Papi che furono protagonisti di eventi epocali come misurarsi con la tragedia delle due guerre mondiali, questo Papa si trovò nel mezzo collaboratore dell'Uno e in un certo senso colui che aveva individuato il genio del futuro Papa Pacelli, del quale si servì come segretario di Stato a partire dal 1930, preparandogli la strada per una rapidissima elezione, quella del conclave del febbraio del 1939, pensate soltanto tre scrutinini, anche quello che portò all'elezione di Papa Benedetto il 19 di aprile del 2005 di scrutinini richiese quattro, quindi voleva dire che si individuava perfettamente una continuità tra il Papa che era scomparso e il suo braccio destro, il suo più stretto collaboratore. Ebbene, questo pontefice si trovò in realtà a operare, è vero, in una zona grigia, cioè nel dopoguerra, ma dovette dotare la Chiesa di una serie di strumenti e anche di istituzioni con le quali far fronte a problemi e a circostanze che mai si erano presentati al Papato nella sua millenaria storia. Questo è un aspetto che va giustamente osservato. Ebbene, io partirei dalla definizione Papa Brianzolo per ribaltarla in positivo. Il legame con la sua terra, con la sua Brianza, in effetti è presente anche in diverse allocuzioni, cioè discorsi pubblici del pontefice, che per esempio accogliendo in San Pietro un gruppo di pellegrini desiani, lui era la famiglia Ratti, era in realtà originaria di Rogeno, ma si era poi trasferita a Desio dove il padre Francesco Ratti aveva un'attività imprenditoriale, industriale, per cui il Papa individuò un po' in Desio anche una delle sue origini, delle sue radici. Ebbene, giocando sulla interpretazione nominis, sulle interpretazioni del nome, disse non dovremmo dire Desio, ma Desio, cioè luogo che è oggetto del desiderio, identificando fin da quel momento uno stretto legame con la sua terra. Il concetto di Brianza è un concetto lato a livello geografico, però sicuramente lo troviamo, troviamo il Monte Brianza, attestato a più riprese nella visita pastorale di uno dei più grandi pastori della chiesa ambrosiana e sicuramente colui che ha concorso a formare nelle comunità, a partire dal suo episcopato nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, tra il 1566 e il 1584, parlo di San Carlo Borromeo, è nel corso della sua visita apostolica che si parla anche della Brianza, un luogo che fu particolarmente caro alle cure pastorali di questo vescovo, che si battè durante tutto il suo episcopato non solo per la ricezione da parte delle chiese locali dei deliberati tridentini, del concilio di Trento, ma anche per innervare di fondamenti di fede la vita cristiana delle comunità, fare in modo che la fede fosse praticata, vissuta e permeasse di sé la vita delle masse. Per questa ragione agì sulla formazione dei sacerdoti, sulla preparazione teologica appunto dei sacerdoti, curò che gli arredi sacri, le chiese fossero in una condizione di bellezza, perché la bellezza con la b minuscola è chiaramente riverbero della bellezza senza tramonto con la b maiuscola. Insomma, San Carlo fu un instancabile annunciatore del Vangelo e l'esempio da lui lasciato e anche dai suoi successori concorse a formare quell'humus culturale, religioso, che ancora in due romanzi straordinari, che possono essere anche posti in uno stretto legame tra di loro, i Promessi Sposi del Manzoni e un altro romanzo che nella linea dei Promessi Sposi si viene a collocare, a mio avviso uno, il secondo più bello della nostra tradizione letteraria, che è il cavallo rosso di un figlio della Brianza, Eugenio Corti, abbiamo un ritratto perfetto di questo mondo e di questo sistema di valori, un mondo per quale ragione il Manzoni aveva scelto di ambientare la storia senza tempo di Renzo Lucia, che lui considerava storia milanese scoperta e rifatta dal XVII secolo, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni con l'espediente dell'autografo. Ma l'aveva scelto il Seicento, tra l'altro durante l'episcopato del nipote di San Carlo, quel Federico Borromeo anche il testimone della rinascita cattolica tra Cinque e Seicento, perché il Seicento in Lombardia era stata una delle ultime stagioni nella storia dell'uomo in cui ancora i ritmi di vita, i vari momenti della giornata di un uomo erano scanditi dalla fede, dalla preghiera, dalla presenza della Chiesa nella vita, nella società. L'angelus, la benedizione, sono ritmi che ricorrono anche per esempio nel Cavallo Rosso, ad attestazione del fatto che la Nomana, che in realtà è una città dell'abrianza che può collocarsi in qualunque angolo di questa terra, era ancora un ambiente costitutivamente, intrinsecamente cristiano, perché il cristianesimo, professato, vissuto, praticato, diventava ancora un criterio di giudizio, un punto di riferimento, un sistema di valori inverati nel reale che orientassero e disciplinassero la vita dell'uomo, la orientassero al bene, al suo compimento. Allora, se questo è l'humus culturale in cui cresce e si forma, a partire dalla nascita, nel 1857, il futuro paparatti, quali caratteristiche rimangono nella sua personalità, nella sua indole, come lo stesso suo segretario particolare, il cardinale Confalonieri ebbe modo di notare, sicuramente lo spirito quasi imprenditoriale, quasi manageriale. Paparatti sarà un costruttore non solo di chiese, di oratori, di sedi dell'azione cattolica, ma anche di istituzioni, istituzioni legate per esempio all'associazionismo cattolico, perché si rendeva conto che nel contesto di una società che cambiava, che si apriva ormai ai ritmi della rivoluzione industriale, fosse opportuno e necessario una presenza dei cattolici a significare una collaborazione tra le classi sociali non improntata a conflittualità, ma a solidarietà, che è la variante cristiana della caritas, la virtù teologale, aiutare l'altro nel quale io riconosco il volto di Cristo. La mitezza, la pacatezza, ma anche la fermezza. Il Santo Padre, a detta dei suoi collaboratori, era un uomo mite ma inflessibile e quando si fosse rivelato necessario anche implacabile, ci sono testimonianze di udienze da lui riservate a vescovi, a prelati o anche chirografi indirizzati, documenti di sua mano indirizzati a cardinali, penso al cardinal Initzer di Vienna che aveva benedetto sostanzialmente l'anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista e che venne pesantemente rimproverato dal Pontefice, quindi anche una notevole fermezza come è attestata da quella udienza avvenuta nel 1925 in cui un cardinale francese che aveva mosso delle critiche, dei rilievi all'azione del Santo Padre che aveva ripristinato le relazioni diplomatiche con la Francia entrò in udienza cardinale e ne uscì semplice prete, a dimostrazione del fatto che quando in un certo senso la funzione di Pontefice esigeva anche il munus gubernandi e tregendi e anche in alcuni casi corrigendi. Il laboriosità, pacatezza, solerzia era instancabile, era sino agli ultimi giorni della sua vita, gli ultimi anni saranno tormentati dal diabete e anche da una deficienza cardiaca che andrà aggravandosi, poi le cure dell'epoca erano naturalmente lontane da quelle che possiamo immaginare noi e ricevere noi oggi, ebbene anche nonostante gli acciacchi dell'età, morirà la soglia degli 82 anni, sarà sempre sollecito, pensate che scriverà quasi sempre di suo pugno i discorsi, le allocuzioni, tutte quante o quasi le encicliche. C'è soltanto quella che è passata alla storia come la cosiddetta enciclica nascosta, l'Humani Generis Unitas, che in realtà condannava i presupposti del razzismo e dell'antisemitismo, un documento estremamente lucido che lui affidò a tre padri gesuiti e che non vide poi la luce per la morte prematura del pontefice e anche per il fatto che la sua successione coincise fondamentalmente con lo scoppio della seconda guerra mondiale. Ma l'altro elemento fondamentale è la sua straordinaria fede. La fede intesa, la fede, la pietas, intesa non come pratica devozionale, c'era naturalmente anche quella, era devotissimo al rosario, era devotissimo agli angeli custodi. Quando dava la benedizione a chi lo avesse incontrato nel palazzo apostolico alle udienze non mancava mai di dire tangelus domini comité turvo biscum e l'angelo del Signore vi accompagni sempre, sia sempre con voi. Una profonda fede che era destinata nei suoi intendimenti necessariamente, intrinsecamente ad inverarsi nelle opere. C'è una sua riflessione molto bella che volevo parteciparvi e tratta da un suo discorso del 23. La pietà non è una fiammata momentanea. Per essere pietà deve essere come una vita. Si è P.I. e lui scelse questo nome Vocabor Pius, disse, quando ricevette i voti necessari per essere eletto pontefice, proprio perché Pius era un nome che indicava lo zelo nella diffusione della fede e anche la sua aspirazione alla pace. Si è P.I. come si è vivi. Essere P.I. e dunque provare di continuo il Dio presente in tutta la nostra umanità. Un Dio che ci abbraccia totalmente nei nostri limiti come nelle nostre qualità. Contemplazione e azione, ragione e senso, volontà e sentimento. La religione non è un cassetto riservato nel casellario della vita, alla quale taluni pensano che solo in determinate occasioni, in determinati giorni e ore, si possa ricorrere utilmente. Sembra di sentire il Papa Benedetto. La religione deve invece abbracciare tutto l'uomo. La religione è reale il rapporto di legame con Dio se si coglie concretamente nella vita, se si invera nella vita. E, tra le altre cose, da questo punto di vista, il motto del suo pontificato, che fu Pax Christi, in Regno Christi, è straordinario. La pace di Cristo, quindi un mondo riconciliato in Cristo, il suo, quasi la sua, non era un'utopia, la sua aspirazione era una sorta di nuovo Eden, di una umanità riconciliata con il suo creatore. Nel Regno di Cristo, cioè l'obiettivo era quello di portare l'umanità a Dio. Perché? E da questo punto di vista il Papa si rivela quasi profetico. Il grande pericolo che Pio XI già individuava, vi dicevo, era stato un diplomatico, era un uomo di grandissima cultura. È stato forse uno dei papi più colti e più dotti nella storia della Chiesa contemporanea, fino almeno a Benedetto XIV, il Papa Lambertini tra il 1740 e il 1758. Un uomo che aveva proprio il senso dell'umanità e si rendeva conto che il pericolo più grande per l'uomo contemporaneo era l'evaporazione del senso di Dio. L'espressione non è mia, è di un antropologo e teologo cattolico, Julian Ries, che riceverà il 18 febbraio il cardinalato, la porpora cardinalizia, proprio per i suoi studi approfonditi sul senso religioso dell'uomo da Papa Benedetto. Il grande problema che questo pontefice incominciava ad individuare era il fatto che la fede, se non profondamente radicata nel cuore dell'uomo, nell'umano, alla fine piano piano diventasse come qualche cosa che si chiude in un cassetto riservato, che non incide nella vita, che corre per un'altra strada. La fede non si invera più nelle opere. Di qui, per esempio, il grande impegno che egli profuse nella organizzazione, siamo già nel 1922, l'enciclica è forse la prima del suo pontificato, la Ubi Arcano, con la quale organizza l'azione cattolica. L'azione cattolica che per lui era quella laicato formato alla dottrina sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, l'insieme dei documenti dei pontefici con i quali la Chiesa interveniva nell'analisi delle dinamiche sociali e proponeva una sua visione, alla luce del Vangelo e del Magistero dei Papi, su quelli che dovevano essere i rapporti all'interno delle classi sociali. Lo stesso Papa, nel 1931, emanerà l'enciclica Quadragesimo anno che si colloca 40 anni dopo Polarerum Novarum di Leone XIII del 1891, forse la prima vera enciclica con spessore sociale che fonda la dottrina sociale della Chiesa contemporanea. Ebbene, l'azione cattolica era concepita dal Papa, lo dice anche il nome, come l'operatività di un laicato formato al Magistero e rigidamente, saldamente guidato dal Magistero, nella ecclesiologia di Pio XI, la Chiesa ha questo volto gerarchico. Un volto gerarchico, sia ben chiaro, che non vuol dire obbedienza cieca ad una istituzione, ma il dovere del servizio. Il Papa, il vicario di Cristo in terra, lui ebbe sempre una grandissima consapevolezza di questo ruolo, è primo per servizio, per responsabilità, è primo perché deve servire più degli altri gli altri e a lui nel giorno del giudizio davanti a Dio sarebbe stato chiesto più degli altri, essendo il capo, la guida della Chiesa. Ebbene, questo laicato formato al Magistero avrebbe dovuto agire nel mondo, concorrendo ad essere lievito nella massa, a, come era uno dei motti, una delle affermazioni frequenti di Papa Pio XI, ricondurre, richiamare l'uomo del suo tempo alla sua radice, che è quella di creatura. Parallelamente agli sforzi profusi per il rafforzamento dell'azione cattolica nel mondo, nella società, pensate che riuscì a ottenere anche dopo un duro scontro con Mussolini che solo l'azione cattolica fosse, dopo il 1931, riconosciuta come associazione libera e indipendente. Guardate che anche un provvedimento, una concessione importante come questa, sarà uno degli elementi che farà sì che il nostro paese, il regime fascista, non possa in alcun modo essere paragonato alle altre dittature totalitarie che invece erano riuscite a eliminare all'interno dei rispettivi stati, l'Unione Sovietica e il Terzo Reich, qualsiasi tipo di opposizione. Uno dei fattori anche di fragilità e di debolezza intrinseca alla dittatura fascista in Italia sarà proprio quella di avere una opposizione riconosciuta, non tanto nella monarchia che cambierà posizione nel momento in cui si incominceranno a intravedere le crepe nel soffitto dell'edificio dello Stato, quanto proprio nella presenza di un laicato cattolico di opposizione. Le altre due elementi, le altre due istituzioni al centro della preoccupazione pastorale di più undicesimo saranno la parrocchia e la famiglia, anche in questo figlio dell'Abrianza. La parrocchia cioè il sacerdote, alter Christus. La parrocchia come presenza capillare pervasiva nella società della Chiesa universale. La parrocchia come luogo in cui attraverso i sacramenti l'uomo si santifica, scopre la sua chiamata, la sua vocazione. C'è una riflessione molto bella, che volevo leggervi, sulla responsabilità e sulla figura proprio del sacerdote. Una delle pagine, una pagina molto bella, una riflessione interessantissima, che lascia intendere la responsabilità e anche il compito che egli individuava nel sacerdote. Il cardinale Confalonieri, il suo segretario, disse che sarebbe stato un parroco straordinario ed era diventato il parroco della Chiesa universale. Dice, si può dire che in ogni ora importante della sua vita il cristiano veda al suo fianco il sacerdote. Egli nasce e il sacerdote lo fa rinascere nel battesimo, ad una vita più nobile e più preziosa, qual è la vita soprannaturale, per cui diventa figlio di Dio e della Chiesa. Per renderlo più valoroso nei combattimenti spirituali, un sacerdote rivestito di speciale dignità lo costituisce soldato di Cristo nella Cresima. Appena è capace di discernere e di apprezzare il pane degli angeli disceso dal cielo, il sacerdote lo nutre e lo ristora con questo cibo vivo e vivificante. Se è caduto in peccato, il sacerdote lo rialza e lo rafforza nel sacramento della penitenza, nel nome e con l'autorità di Dio. Se Dio lo chiama a formarsi una famiglia e a collaborare con lui a trasmettere il dono della vita umana, per così aumentare prima il numero dei fedeli sulla terra e poi quello degli eletti nel cielo, il sacerdote è là, in qualità di testimone qualificato della Chiesa, per benedire le sue nozze e il suo casto amore. Casti conubi sarà tra l'altro la bellissima enciclica che egli promulgherà sulla santità del matrimonio e sulla sacralità della famiglia. E quando il cristiano, giunto alla soglia dell'eternità, ha estremo bisogno di forze e di coraggio per comparire davanti al giudice divino, il sacerdote si china ripetutamente sulle membra doloranti del moribondo e lo purifica e lo solleva con l'olio santo. Raggiunta ormai l'eternità, il sacerdote non lo abbandona ancora, se l'anima ha bisogno di espiare, egli corre in aiuto con la preghiera di suffragio. Sembra di leggere, di ascoltare le munizioni che San Carlo indirizzava ai suoi sacerdoti. Nel tentativo, siamo quasi quattro secoli prima, di richiamare al sacerdote, se qualcuno di voi ha letto i Promessi Sposi ricorderà la figura del Don Abbondio Manzoniano che era abbastanza lontano da questa immagine, richiamare però il sacerdote al suo compito, il compito di essere alter Christus, un testimone, un altro Cristo, colui che, come diceva il santo curato d'Ars, poteva essere impuro, immondo, anche peccatore, ma nel momento in cui consacrava faceva scendere Cristo, il Signore, sulla terra, sulla mensa eucaristica. Allora, la figura della parrocchia, la figura del sacerdote, la famiglia. La famiglia fu l'altro ambito che ricevette, l'altro ambito di presenza della Chiesa nella società che ricevette le cure, l'attenzione di Papa Pio XI, che anche perché vedeva la famiglia minacciata da una ideologia secolarizzatrice che sostanzialmente tendeva a scardinare i presupposti religiosi e spirituali l'ancoraggio evangelico di questa cellula della società. E all'interno della famiglia, egli in particolare, si soffermava sulla figura della madre, della donna, madre, sposa e madre. La donna come nel volto della quale, che nel suo agire, nel suo compito e nella sua missione avrebbe dovuto riconoscere nella Vergine Maria, nella madre di Dio per eccellenza, il suo modello, il suo esempio, la figura della donna come colei che a diretto contatto tanto del marito quanto dei figli e in una celebre allocuzione a diverse coppie di sposi, il Papa si augurava che le famiglie fossero feconde, che accettassero con grandissima generosità il dono di tanti figli. La madre, la donna, era colei che avrebbe potuto rappresentare un punto di equilibrio fondamentale all'interno della famiglia, avendo, pensavo probabilmente anche alla propria madre, un ruolo di educatrice, di educatrice alla fede per i figli e anche di colei che condivideva con il marito il cammino verso la santità nella vocazione coniugale. Quindi questa straordinaria attenzione per istituzioni così importanti nella vita della Chiesa del tempo che il Papa sentiva inesorabilmente messe in discussione, messe in crisi. Infatti la sua preoccupazione durante i 17 anni del suo pontificato fu proprio la guerra che le dittature, diversi regimi secolaristici ormai stavano lanciando alla Chiesa senza quartiere. Il Papa durante il suo pontificato arrivò addirittura a indire ben tre anni santi nel 1925, nel 1929 e nel 1933, anni di redenzione. L'anno santo, come sappiamo, è quel periodo di grazia, quell'anno di grazia durante il quale la Chiesa chiama i fedeli attraverso una visita soprattutto alle basiliche patriarcali, ai luoghi in Roma che avevano visto la testimonianza uscua diffusione in sanguinis del principe e degli apostoli, Pietro e Paolo, ma anche una visita alle principali basiliche della cristianità concede il perdono, l'indulgenza plenaria. Un anno quindi in cui l'uomo si può, grazie ai sacramenti, grazie alla visita appunto a Roma, riconciliare con Dio e il Papa sentiva grande questa preoccupazione perché vedeva un'umanità, quella del suo tempo, che a suo avviso invece si andava drammaticamente allontanando dal creatore. Quindi accanto all'indizione degli anni santi, che ebbero anche un grande successo. Ecco le canonizzazioni. Pio XI canonizzò tra gli altri per esempio Tommaso Moro, l'emblema di colui che per dare testimonianza a Cristo non rinnega i fondamenti del suo credo e della sua fede, anche se questo costa la morte. Colui che pur di rimanere fedele a Pietro, nella persona del Papa Clemente VII, venne decapitato nel 1534 dal re d'Inghilterra Enrico VIII. Oppure San Giovanni Bosco, educatore per eccellenza. O Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa del Bambin Gesù, una figura straordinaria di santa della fede, di carmelitana che nel nascondimento della preghiera e dell'offerta di sé e della sua sofferenza, venne con la preghiera e con la sofferenza che egli offriva per il progresso della Chiesa e dell'evangelizzazione anche nelle terre che non avevano ancora conosciuto Cristo, le terre di missione, che il Papa riconobbe proprio come patrona delle missioni. È straordinario se pensiamo ad una donna, ad una religiosa che non si allontano mai dal Carmelo di Lisieux. Ma questo dice anche della grande libertà di questo Papa nel proporre alla Chiesa dei modelli. Dei modelli, come si diceva prima, di fede che diventa comportamento, che diventa questa vita, che si invera, che concorre a trasformare e a cambiare la società. Cambiare la società facendola diventare il Regnum Christi, quello che era un po' il suo motto. Da questo punto di vista, quindi la preoccupazione anche nei confronti della ininfluenza della fede nella vita, sembra, è incredibile l'analogia con il messaggio altrettanto profetico del Papa Benedetto, di Papa Benedetto XVI, che da una parte con l'indizione dell'anno della fede, che prende avvio proprio quest'anno, nel 2012, come ha sancito nel motu proprio Porta Fidei, dall'alto, quindi un anno nel quale in occasione della ricorrenza dell'anniversario del Concilio Vaticano II, il Papa chiama tutta la Chiesa, ma anche coloro che sono alla ricerca, gli uomini che avvertono la domanda di senso nella loro vita, li chiama a riflettere sul dono grande della fede, su che cosa voglia dire la fede per un cristiano o per chi la sta cercando. E poi l'altra geniale intuizione che risale al 2010, la creazione del di Castero, del 2011 scusate, il di Castero per la nuova evangelizzazione, affidato a Monsignor Fisichella, un di Castero destinato a aggiornare ai tempi le modalità con la quale nei paesi di antica evangelizzazione riproporre l'annuncio di Cristo. C'è una straordinaria continuità nel magistero di questi due pontifici ed è evidente che quello di Pio XI possa avere davvero una valenza profetica. E mi piaceva anche terminare la nostra riflessione con uno sguardo sulla sua azione concreta negli anni del suo pontificato, perché Paparatti fu anche un diplomatico, fu anche un uomo di stato, aveva tra le altre cose un altissimo concetto della sua funzione, della sua funzione di vicario di Cristo. Dice in una allocuzione rivolta proprio tra l'altro a dei cardinali francesi. La chiesa francese almeno diede parecchio filo da torcere anche a un Papa Comasco, il Beato Innocenzo XI, perché per sua tradizione, per una tradizione che risale niente meno che al concordato di Bourges del 1453, si sentiva più legata quasi alla corona che non allo stesso pontifici e ai vescovi francesi lui ricorda, quando si tratta del vicario di Gesù Cristo, del Papa, con qualunque nome egli si chiami ed un qualunque tempo egli viva, si tratta ancora e sempre di Gesù Cristo. Il senso grandissimo e altissimo che aveva della sua missione era quello che il vicario di Cristo rappresentava Cristo sulla terra, non c'era altra possibilità, aveva una responsabilità altissima nell'ambito della vita della chiesa e del mondo. Fu un pontefice pragmatico, anche in questo forse affiora il suo spirito brianzolo. Pragmatico perché cercò in tutti i modi i negoziati laddove fosse possibile permettere alla chiesa di operare nella società, per richiamarla al Signore, arrivare anche a soluzione di compromesso laddove fosse riconosciuto alla chiesa uno spazio di azione. Naturalmente un compromesso che non avrebbe, sto sforando l'ora, chiedo, posso ancora? Grazie, in dieci minuti riusciamo. Fosse messa nelle condizioni di dare testimonianza a Cristo senza deflettere dai principi non negoziabili. Ecco allora il concordato, l'accordo del 1924, la maximum gravissimamque, una enciclica che chiudeva di fatto l'annosa questione della separazione tra stato e chiesa, quindi la rottura delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Francia, che era sempre stata per antica tradizione la figlia primogenita della chiesa, siccome uno dei suoi re leggendari, Clodoveo, leggendario perché il suo nome si perde nella notte dei tempi, essendo stato re dal 481 al 511, quindi parliamo di diversi secoli addietro, però era stato il primo re a essersi convertito al cattolicesimo avendone ricevuto al battesimo. Quindi la figlia primogenita della chiesa era la nazione che per prima aveva rotto le relazioni con la chiesa stessa. Il Papa anche per dare in questo grande stato cattolico all'istituzione ecclesiastica la possibilità di essere pervasiva e presente nella società, arrivò ad un accordo anche delicato con lo Stato francese al fine di limitare gli effetti di una separazione totale che avrebbe per esempio impedito alla chiesa di gestire delle scuole, delle istituzioni legate alla trasmissione dei valori della fede alle nuove generazioni. Abbiamo poi nel 1929, l'11 di febbraio, i patti lateranensi. Quel accordo, quel concordato con lo Stato italiano, nella persona di Mussolini, il Papa era rappresentato dal Cardinal Gasparri, il suo segretario di Stato, che chiudeva la cosiddetta questione romana, cioè quella netta scissione con scomunica da parte del Papa nei confronti dei sovrani, dei governanti italiani e di tutti i capi di Stato che avessero visitato ufficialmente il Quirinale, il sovrano italiano che non era riconosciuto dal Vaticano proprio perché il Regno d'Italia aveva conquistato Roma e il Lazio togliendolo alla chiesa nel settembre del 1870. Ebbene, una frattura che aveva rappresentato sempre una anomalia grande nella storia del nostro paese, cattolico al 95%, che aveva una classe dirigente anticlericale, laica, massonica proprio perché non si poteva formare un laicato cattolico che partecipassi al governo dello Stato per via di questa netta separazione, il celebre non expedite ancora di Pio IX. Quindi il Papa si trova nelle condizioni, trova nella dittatura mussoliniana che in un certo senso non aveva nulla a che spartire con la tradizione liberale cavuriana dello Stato monarchico, una, la possibilità di chiudere una questione che ormai durava da 60 anni, ottenendo il riconoscimento della propria indipendenza e autonomia, il concetto di Stato sovrano per il Vaticano, sovrano, neutrale naturalmente, imparziale come amava dire Pio XI e la restituzione anche di parte dei beni confiscati alla chiesa che da quel momento avrebbe potuto dispiegare liberamente, senza costrizione, anche creando scuole, ospedali e istituzioni, tra cui le associazioni cattoliche, la sua azione nella società. Certo, il compromesso naturalmente comportò il riconoscimento al regime, alla dittatura che almeno fino alla guerra di Etiopia riuscì in un certo senso a mantenere lo Stato in una condizione di pace, perlomeno di tranquillità interna. L'accordo con la Chiesa e i patti lateranessi rappresentarono anche per la dittatura mussoliniana forse il livello di massimo consenso raggiunto all'interno della società italiana. Lo stesso Papa però fu altrettanto fermo e duro nel richiamare Mussolini al rispetto di questi accordi, da prima dopo gli attentati alle sedi dell'azione cattolica e delle associazioni cattoliche a partire dal 1931 e poi con la rottura nei rapporti con il Duce nel 1938, quando anche l'Italia aderifece proprio le leggi razziali che erano state introdotte nel Reich tedesco. Quindi compromesso ma nella difesa dei principi non negoziabili della dignità e della libertà dell'uomo. E sempre in questa linea va inteso anche il discusso concordato del 1933 con la Germania itleriana, un concordato stipulato attraverso l'azione di Eugenio Pacelli che era segretario di Stato ma che era stato anche nunzio apostolico proprio in Germania, che conosceva l'ambiente tedesco. Il concordato viene stipulato in un momento in cui il Reich non ha ancora dimostrato il volto più sanguinario e apertamente totalitario. Il Papa vide in questo accordo la possibilità che anche in Germania fosse garantita una presenza per esempio del Zentrum, che era il partito cattolico radicato soprattutto in Baviera e nella Valle del Reno, una presenza che potesse mitigare una deriva dittatoriale del regime, una deriva dittatoriale che egli però individuava sempre come meno pericolosa rispetto a quanto stava avvenendo ai confini orientali della Germania, vale a dire il consolidamento della dittatura sovietica durante l'età staliniana. Una fase buia per la storia della Russia che il Papa voleva in qualunque modo impedire si propagasse anche all'Europa occidentale. Invece quando il regime itleriano gettò la maschera, Pio XI non esitò, siamo nel 1937, a obbligare tutti i vescovi tedeschi, molti dei quali vennero per questa ragione arrestati, a far leggere dai loro parroci dal pulpito l'enciclica Mit Brennender Sorge, scritta in tedesco, quindi non nel linguaggio universale della Chiesa che è il latino, ma proprio in tedesco, perché tutti potessero ascoltare la ferma condanna del regime nazista presentato come regime pagano e anticristiano, cioè depositario di una ideologia che poteva dirsi a tutti gli effetti anticristiana non già per i presupposti antropologici, quella è la condanna nei presupposti antropologici intrinsecamente anticristiani, abbiamo la condanna del comunismo, ma per una pervasività all'interno della società al fine di sostituire alla libera coscienza dell'uomo e quindi alla sua dignità una ideologia totale e totalizzante che sottometteva la libertà e le convinzioni dell'uomo al moloch dello stato e della dittatura, trasformando di fatto gli uomini in altrettanti burattini, costretti semplicemente con il terrore a obbedire ad un regime che si serviva a man bassa della propaganda di una propaganda spietata per propagandare un credo e un'antropologia non cristiana, la questione delle leggi razziali della superiorità di una razza venne condannata apertamente dal pontefice. Sempre nel 1937 abbiamo anche, precedeva di qualche giorno l'enciclica, siamo sempre nel mese di marzo, la divini redemptoris, quella che contiene una compiuta e lucida condanna del comunismo. Anche in questo caso ve ne leggo un passo perché è interessante per indicare la indisponibilità del pontefice ad accordi con stati che presentassero formamenti su una dottrina, una ideologia incompatibile con il Vangelo. Lui scrive nel testo, il primo e più grande pericolo è certamente il comunismo in tutte le sue forme e gradazioni. Tutto a esso minaccia, apertamente impugna o copertamente insidia. La dignità individuale, la santità della famiglia, l'ordine e la sicurezza di civile consorzio e soprattutto la religione, fino all'aperta e organizzata negazione e impugnazione di Dio e più segnatamente la religione e la chiesa cattolica. Pericolo grande, totale e pericolo universale. Voi direte di lettissimi figli che avete veduto il padre comune di tutti i redenti, il vicario di Cristo, profondamente preoccupato e addolorato di questo massimo pericolo che minaccia tutto il mondo. Direte di lettissimi figli che il padre comune non cessa di segnalare il pericolo che molti, troppi, sembrano ignorare o non riconoscerne la gravità e la imminenza. Anche da questo punto di vista sarebbe stato profetico, perché quello che avvenne dopo il 1945, quindi l'estensione del regime, delle dittature totalitarie di orientamento comunista nei paesi, di quello che sarebbe diventato il patto di Varsavia, sta ad attestarlo. Ma è purtroppo vero che anche oggi esiste un comune nemico minacciante tutto e tutti. Arrivando esso anche al sacrario della famiglia, era la sua preoccupazione, il sacrario della famiglia è il consorzio statale e sociale, il comunismo che dappertutto tenta di penetrare, che purtroppo già in tante parti è penetrato, dove con violenza, dove con l'insidia, dove con l'inganno, fino a rivestire le apparenze di migliori consigli. Quello che il Papa non ammetteva era, ve lo accennavo prima, la concezione dell'homo economicus, di un uomo che è materia tra la materia, è un uomo che non ha bisogno di altro se non della soddisfazione dei suoi bisogni materiali e poi può essere inquadrato tranquillamente in una struttura di Stato che nega alla radice, siccome ha una dottrina che tutto permea di sé e tutto spiega, una dottrina che è incarnata nelle strutture del partito unico, perché non esiste nessun tipo di libertà politica o di libertà di coscienza, uno Stato che finisce con l'asservire l'uomo schiacciandolo nella sua individualità nella società, nella organizzazione dei processi economici, naturalmente scardinando quelle istituzioni che, a detta del Pontefice, venivano prima dello Stato e che dello Stato erano cellula costitutiva, per esempio la famiglia. L'altro grande ambito, vi accorgerete che sono state tantissime le insidie e anche i pericoli per la vita della Chiesa e dell'umanità con i quali questo Papa si dovette misurare l'altro, fu quello della affermazione di regimi apertamente anticlericali. Penso al Messico massonico degli anni 20 e soprattutto alla Spagna repubblicana, a quella pagina estremamente buia della storia di Spagna che il Papa aveva ben presente, se già nella bolla di Lectissima Nobis del 1933 si rivolgeva all'episcopato spagnolo che incominciava in quell'anno a subire una persecuzione, a Onor del Vero era già iniziato nel 31, una persecuzione sistematica da parte del governo del fronte popolare, del governo repubblicano del fronte popolare che aveva individuato nella Chiesa, nella sua presenza assolutamente capillare nella società spagnola, attraverso le scuole, attraverso tantissime istituzioni sociali, l'unico ostacolo alla possibilità di imporre una ideologia di Stato di stampo totalitario che guardava prevalentemente all'Unione Sovietica, anche se all'interno del regime repubblico spagnolo si alternò un primo orientamento borghese liberale anticlericale a un secondo, quello degli ultimi anni fino al 36, un blocco di governo formato da partiti che si riconoscevano nell'internazionale comunista. Fu una mattanza, si pensa che siano state migliaia i sacerdoti, le religiose, si pensa, abbiamo testimonianze, non passa anno in cui non ne vengano beatificati a dozzine, addirittura anche a centinaia e alcuni sono saliti all'onore degli altari di sacerdoti, ma anche di laici impegnati che hanno versato il sangue nella testimonianza di Cristo, nei confronti di un regime che uccideva, massacrava coloro che semplicemente portavano una tonaca, un segno distintivo dell'appartenenza a Cristo, perché questo era già ipso facto il segnale di una non appartenenza allo Stato che avrebbe dovuto fornire l'ideologia sostitutiva. La stessa cosa si può dire per il Messico? Il Messico, sembra incredibile, lo Stato che attualmente annovera al suo interno ormai il maggior numero di cattolici è stato negli anni venti del secolo scorso quello che ha conosciuto la prima dittatura di stampo liberale che arrivò a negare apertamente la possibilità di una libera testimonianza del Cristo nella società. Pensate che, questo è interessantissimo, e dice della genialità di quel gigante della fede che fu il beato Giovanni Paolo II. Il primo viaggio, uno dei primissimi viaggi apostolici che egli compì, siamo nel 79, fu proprio in Messico e il presidente messicano di allora dovette accettare, per esplicita richiesta del pontefice che se no non sarebbe sceso dalla scaletta dell'aereo, che egli non vestisse l'abito secolare in pantaloni e giacca ma mantenesse l'abito talare perché voleva dire anche con l'abito dare testimonianza al Signore e da quel momento, dal 79, da quella visita apostolica del Papa, la Chiesa ebbe la possibilità di tornare a professare liberamente la sua appartenenza anche attraverso la dignità dell'abito. Questo per dire che il mondo con il quale questo Papa, se pensiamo a tutto quello che un po' tentativamente e naturalmente in maniera un po' sintetica, forse non sufficientemente approfondita, ma cercando di dare una sorta di affresco e di tavolozza, le difficoltà con le quali questo Papa si è misurato durante tutto il suo pontificato, ci rendiamo conto del carattere molto ingeneroso del giudizio di chi lo ha bollato come un pontificato tra i più grigi degli ultimi cento anni nella storia della Chiesa. Volevo chiudere con una riflessione che risale forse agli ultimi giorni di vita del Papa, siamo agli inizi del 39, il Papa è molto malato, è minato dal diabete, vi dicevo che aveva anche delle disfunzioni cardiache che si erano aggravate, anche perché tra il 38 e il 39 la situazione a livello mondiale non era certo foriera di elementi di sicurezza e di tranquillità, anzi sembrava che all'orizzonte fossero sempre nubi più nere e più cupe che si andassero addensando. Ebbene al suo segretario confida. È un atto di totale affidamento in Dio, che ci dice della grandissima fede di questo figlio dell'Abrianza. Noi facciamo quello che possiamo, il Signore fa quello che vuole. Quando noi abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare, non dobbiamo preoccuparci del resto. Sa il Signore ciò che deve fare e, state certi, lo sa fare bene. Grazie Due domande Prima Quella È in ciclica o comunque quel testo che doveva pubblicare e che non l'ha pubblicato per la sua malattia, ma forse per una prudenza politico-diplomatica di chi gli era vicino e poi gli succederà a Facelli. Questo testo c'è? Lui non lo ha pubblicato? Prima domanda Seconda domanda L'incontro con i comunisti di denunzio ratti in Polonia Il pericolo che i bolshevichi venissero a rioccupare la Polonia Fino a che punto è arrivato? E chi è venuto in soccorso dalla Polonia per respingere una possibile invasione bolshevica della Polonia? Perché i russi avrebbero voluto riprendersi la Polonia, no? Certo Allora, innanzitutto, grazie Cioè lo scontro contro i comunisti, no? Sì, sì Del Papa Prima parto dalla Humani Generi Unitas, l'enciclica, quella che i francesi chiamano l'enciclica Caché Anche perché Caché Nascosto Esattamente Era È un testo che è stato pubblicato nel 72 È agli atti È nella Lo si può consultare Consta di Adesso non ricordo il numero di capitoli Però è un testo Composito e articolato E racchiude una riflessione molto lucida Portata avanti, vi dicevo, da tre padri gesuiti Soprattutto il padre Lafarge che era americano Ma che venne visionata dal Papa Che però non riuscì a dare l'ultima lettura Perché i capitoli finali sfuggirono la sua attenzione Perché era ormai molto malato e minato dalla malattia È un testo che ebbe anche l'approvazione del suo successore di Papa Pacelli Che come lei ha detto Prudentemente scelse Lo ha indicato bene il vaticanista Tornielli In una serie di pubblicazioni anche recenti sulla figura di questo Papa Che ha sempre goduto di una stampa controversa Ha sempre scelto Anche nella constatazione Della impossibilità di un'azione energica In un territorio come la Germania Dove ormai lo Stato aveva ridotto al silenzio Forse eccezione fatta per quelle aree Che erano rimaste intrinsecamente cattoliche Si può pensare alla Münster del cardinale von Galen Che è stato proprio beatificato recentemente Il leone di Münster O alla Baviera Però erano talmente tanto pervasive Le strutture del Reich tedesco Che era davvero velleitaria Era davvero velleitaria La possibilità di immaginare una resistenza E anche una contrapposizione Che portasse a risultati concreti Il Papa preferì sempre Abbiamo diversi suoi chirografi rivolti ai vescovi Ai nunzi E in Italia poi ne diede testimonianza lui stesso Per nascondere attraverso le istituzioni religiose Quanti più ebrei fosse stato possibile nascondere Però è un documento che non ha mai visto la pubblicazione ufficiale E agli atti e nell'archivio Vaticano E consultabile Ne è stata data una pubblicazione per i tipi del surf francese Quindi è tradotto in francese ma non Io l'avevo consultato appunto in lingua francese Per quello che è la seconda domanda molto interessante Vale a dire come venne arginata la minaccia Dell'espansionismo bolscevico comunista in Occidente Una minaccia che lo ricordava sempre il beato Giovanni Paolo II Quando la prima volta visitò il suo paese da Papa E arrivò in piazza Piussulski Perché questo maresciallo Un uomo anche estremamente energico Un grande generale Riuscì, pensate, nell'arco di pochissimi mesi La Polonia non esisteva fino al 1918 Meglio esisteva come tradizione culturale Era stata poi alla fine smembrata definitivamente Se pensiamo che fu fino almeno al 1738 Lo stato più esteso dell'Europa Anche più dell'impero d'Austria Ed era stata protagonista Il suo re Giovanni III Sobieschi Nel 1683 Della fermata dell'avanzata ottomana Nei confronti dell'Europa Era stata smembrata tra i suoi potenti vicini Ed era rimasta comunque unita Almeno a livello culturale Proprio grazie alla tradizione della Chiesa Ebbene, il maresciallo Piussulski Riuscì tra il 18 e il 20 Anche con la collaborazione dello stesso Nunzio Che lo incoraggiò E gli garantì l'appoggio della Santa Sede Credo anche finanziariamente A organizzare un esercito Un esercito fondato sempre sul nervo Della cavalleria polacca Quella cavalleria che era stata Il fiore all'occhiello Degli schieramenti polacchi Nei secoli precedenti E che tragicamente Verrà schierata ancora Il primo di settembre del 1939 Contro i cararmati panzer Itleriani Che in accordo con quelli sovietici Perché poi le dittature sono sempre simili Si spartirono lo Stato Il patto Molotov-Ribbentrop Il da una parte L'abilità strategica di questo generale Dall'altra Venne favorito dall'insorgere Di un movimento contro rivoluzionario La cosiddetta armata bianca All'interno dei territori dell'Unione Sovietica Anche l'URSS in quegli anni Si andava organizzando Perché la Russia era uscita Con l'armistizio di Brest-Litovsk Del 1917 Dalla prima guerra mondiale Di fatto Il governo comunista Si era dato un suo assetto Nel 1918 Ma era ancora profondamente lacerato Tra quanti ritenevano che Ci dovesse essere la rivoluzione In un unico Stato Poi diventeranno maggioritari E chi invece riteneva che La rivoluzione dovesse essere esportata In tutta Europa Per poter trionfare Si era capito che Laddove ci fosse stato un antagonista Di un regime comunista Questo avrebbe rappresentato Ipso facto Un modello di Stato competitivo Con quello sovietico Tra l'altro Questa armata bianca Che si contrapponeva All'armata rossa di Trotsky Venne appoggiato Per esempio dagli inglesi Con finanziamenti E anche con truppe Ci fu la grande rivolta Dei cosacchi Che si opponevano Alla collettivizzazione delle terre Ci furono cioè Tutta una serie di fattori interni Che concorsero ad indebolire L'avanzata russa E a scongiurare La caduta della Polonia Almeno in quel periodo Nell'espire della dittatura comunista Dittatura che non dimenticò Come l'eccidio di Katin Sta tragicamente a dimostrare I 22.000 ufficiali Dell'esercito polacco Che vennero massacrati Con una revolverata alla Tempia Nelle fosse di Katin Che vennero poi Fatte passare Come un eccidio Di matrice nazista Mentre invece Erano state Un atto proprio di vendetta Nei confronti di un esercito E di un esercito Che aveva sempre incarnato Nella storia La fierezza di un popolo La sua indipendenza La sua indisponibilità A finire Sotto una dittatura E qui la storia Sarebbe stata diversa Se La contrarietà La controffensiva Contro La rivoluzione Burschini Che voleva invadere Tutta l'Europa Non si fosse fermata In Polonia Ma fosse entrata In aiuto ai cosacchi E avesse sconfitto La dittatura comunista Allora La storia dell'Europa Sarebbe stata diversa Ma ancora una volta Ci viene in aiuto Il croce Che ci dice Che la storia Non si fa con i sé E con i mani Croce E' un bravo storico L'interrato Ma qui Eternizza Ciò che è eterno Non è Ma è storico Volevo chiederle questo Lei ha posto L'accento Sul 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 significato Che aveva Esaltato Il Papa Nei concetti Di famiglia Nei concetti Dell'associazionismo Cattolico Eccetera Cioè rivalutando Quelli che erano E che sono stati Da allora Poi considerati I soggetti Intermediati Di una società Che si sviluppavano Tra il singolo E lo Stato Può provare Magari a sviluppare Il concetto Di sussidiarietà Che Proprio alla luce Anche del rapporto Che aveva il Papa Nei confronti Dello Stato Sì Teniamo presente Che Lo Stato Quello che noi Definiamo Lo Stato Italiano In quegli anni È un È un'istituzione Sostanzialmente Ancora Molto fragile No? Che Aveva sì Per legge La Daneo Credaro La Casati Creato Una scuola pubblica Ma poi Non aveva formato Maestri Non aveva formato Insegnanti Non aveva dato Denaro Non c'erano neanche Edifici In tanti casi No? Una Inchiesta Del 1912 Dimostra Che Nelle regioni Del Sud Per esempio Soltanto Il 10% Delle città Fossero dotate Di istituzioni Scolastiche Era uno Stato Che Non Sapeva quasi Che cosa fossero Degli ospedali Delle case Di cura No? Pertanto Era Una Istituzione Che Stava Faticosamente Tentando Di Organizzare Anche Una Sua Presenza Pervasiva All'interno Della società E Il Papa Si rendeva conto Che La grande Risorsa Della Chiesa Sarà anche Questo Tra l'altro A indurlo Alla Non Vincendo Anche Tutta una serie Di contrarietà Presenti Nella Chiesa Stessa Che Prediligeva Per esempio Una sorta di teoria Della Rocco Rispetto Al Venire A patia Compromessi Con Le istituzioni Monarchiche Ebbene Il Papa Vedeva Invece Nella Nell'associazionismo Cattolico Nella Nella presenza Di tutti Quegli ordini Quelle congregazioni Che Avevano Sempre Mantenuto Viva Per esempio La presenza Dell'istruzione Cattolica La Gestione Di ospedali Ricordiamo Che Quando A tutto All'intero Regno D'Italia Vennero Estese Nel 1871 Le leggi Siccardi Cioè le leggi Di separazione Cavour Diceva Libera Chiesa E libero Stato In realtà Il suo motto Era uno Stato Che condizioni La Chiesa Perché il suo obiettivo Era addirittura Quello tipicamente Massonico Di arrivare Anche alla nomina Al reclutamento Dell'episcopato Perché in questo modo Avrebbe avuto Uomini di sua fiducia No? E non Oppositore Un Per esempio Un Un personaggio Che Inculcò Anche Una sana diffidenza Nei confronti Dello Stato Dello Stato E delle sue istituzioni Fu Il cardinale Nazari Di Calabiana Che tra l'altro Veniva anche proprio In villeggiatura Ad Asso A Visino Ecco Esattamente E fu Colui che Definì Usò Un felice Ossimoro Per definire Il giovane Achilleratti Un giovane Vecchio No? Per Sottolineare Avendolo Incontrato Appunto Durante queste Permanenze Achilleratti Che si trova Presso Lo zio Parroco Di Asso L'aveva notato La grande saggezza In un giovane No? E gli aveva Inculcato Questa diffidenza Verso Uno Stato Che Lui era erede Di quel Altrettanto Scusatemi Famoso Cardinale Nazari Di Calabiana Che era stato Proprio nel 54 L'unico Che era riuscito A far cadere Cavour Quando era Presidente Del Consiglio E La famosa Crisi Calabiana E Una diffidenza Verso Uno Stato Che Tendeva Capillarmente A controllare Ma anche A svuotare Dall'interno Delle istituzioni Aveva lasciato Le leggi Siccarne Avevano lasciato In vita Istituzioni Come le scuole Aveva consentito La sopravvivenza A quelle congregazioni Che avessero Operato Attività Caritative Mentre Aveva sciolto Tutti gli ordini Contemplativi Chiaro che Per uno Stato Massonico Non avevano Una ragione D'essere Anzi Era una Preziosissima Risorsa Per i beni Da confiscare Da vendere E Ricavarne Moneta Ebbene Il Papa Vide Però Nella Orientandosi Già Poi questo Divenne ancora più evidente Dopo i patti Lateranensi Vide In questa presenza Nella società Di istituzioni Create da cattolici E animate Da cattolici La prova provata Del fatto che Una società Era in grado Di crescere E vive vitale Fintanto che Avesse valorizzato Le qualità E le capacità Dei singoli Io individuo In questo Un Contributo Alla riflessione Sulla sussidiarietà Che peraltro Affonda le sue radici Nella dottrina sociale Della Chiesa Che Vede sempre Prima Dello Stato Spesso concepito Nella Chiesa È sempre presente Anche una riflessione Agostiniana Che vede Nelle istituzioni In un certo senso Tante volte Una sorta di male minore Soprattutto quando Non riconoscano Un principio Trascendente Come loro Ragion d'essere Agostino Li chiamava In magna La trocinia E forse In alcuni casi Nella storia Avrebbe avuto Anche ragione La dottrina sociale Della Chiesa Ha sempre riconosciuto Come prioritario Il ruolo Dell'individuo Che si associa Con altri individui Animato Dallo spirito Del Vangelo Per costruire Delle opere Le opere Sono sempre state Concepite come Il contesto Nel quale La fede Si invera Se c'è Deve diventare opera E soprattutto Le opere Per eccellenza Sono quelle Di carità Quelle con le quali Si viene in conto Ci si china Sull'umanità Sofferente Come sul Cristo Sofferente Per ricondurla Dio Quindi in questo Stava Secondo me Il presupposto Anche Dell'iniziativa Di Pio XI E sicuramente Questo fu Una delle ragioni Che lo indusse All'accordo Al compromesso Dei patti Lateranensi Perché Un po' come Quello che avvenne Nell'impero romano Dopo l'edito Di Milano Di Costantino La Chiesa Ebbe La possibilità Non per tanti anni Naturalmente Perché dopo Le frizioni Ritornarono Perché è chiaro Che poi Quando si opera Nella società Come lievito Nella massa E si afferma La libertà Dell'individuo Quando si ha a che fare Con un regime Liberticida Le frizioni E le collisioni Siano evidenti Però Diede alla Chiesa La possibilità Di rappresentare In una società Che si andava Massificando Un antidoto Al pensiero Unico Del regime Allora Si è fatta Tarda No Va bene Certo Che Io sono stato Molto Cosvito Dalla citazione Sui parici Adesso non parlo Penso Che sia stata Presa Ad Cattolici Sacerdoti Esatto Che ho avuto Per l'intero Perché è molto bello Però dopo tutto La riflessione Che lui fino a 62 anni In realtà A parte quei mesi In cui ha fatto Il pulitore Qui a Barni Lui in parrocchia Non c'è mai stato E noi parlo Siamo sempre contro I nostri periodi Che non hanno mai visto A vita A parrocchiare Però Comandano Fanno le idee Allora La mia riflessione è questa Perché continuo a sentire Ah questo Papa Questo Papa non mi piace Era meglio Il Papa Volitivo Io Tassera ho imparato Che Cioè Lo Spirito di Dio Non sbaglia mai Per cui Se in quel ventennio Qualcuno Ha anche detto L'uomo della provvidenza Riferito a Mussolini Mi pare di capire Che invece L'uomo della provvidenza Ha pensato Per quel periodo E' stato proprio Paparatti Perché A parte tutti questi Il primo Papa Che ha fatto Il primo Papa Che ha fatto Proprio nella lettura Che lei ha saputo Sardegmente dare Penso proprio Che Meno male Che c'è stato Paparatti In quei 17 anni Il codificato E' una lettura Troppo spiritualoide Questa Oppure Educa A smetterla Di dire Questo Papa Non mi piace Il Papa Volitivo Era più bravo Ma se abbiamo Paparazzi In grado Perché è il Papa Che ci vuole In questo momento Penso Lei ha sintetizzato Perfettamente Quello che Ma lo sa meglio di me E' l'azione Della provvidenza Nel mondo Probabilmente Anche la provvidenza Che Senza che lui Sia stato mai Parroco Gli ha dato Una tale lucidità Di spirito E di pensiero Per Riconoscere Nella sua Profonda Conoscenza Dell'uomo E dell'umano Anche Il ruolo straordinario Di questa Di questa figura Quello che Colpisce tantissimo Di lui Anche della sua Umanità Schietta E che ho imparato Ve lo confesso Anch'io Approfondendo Proprio per La nostra Conversazione Di questa sera Il suo pensiero È quell'atto Di affidamento Totale Che può essere Anche Un atto Di grande Umiltà Dante L'avrebbe definito Il grande Antidoto Contro la Superbia Essere Grandi Nell'umiltà Cioè Riconoscere Di essere Creati E lui Solleva Ripetere Agli uomini Che incontrava Che aveva Un principio Che lo aveva Sempre condotto Nella Nella sua vita Che era Quello che Trovava sintetizzato In una riflessione Del santo Curato D'Ars Mettersi Nelle mani Di Dio Perché sono Le migliori No Quindi È quello Che lo ha Mosso Nel suo agire Poi quel Brianzolo Il Brianzolo Ha salvato Ha salvato Ha lavorato Magnificamente Nella Chiesa Per il mondo Di allora I Brianzoli Formati Cristianamente E molto Attivi Devono Continuare Ad aiutare La società A cominciare Dall'Italia Brianzoli Ecco Possiamo Concludere Qui Ringraziamo Tantissimo Il professore Beati I suoi Alunni Perché Io che Ho fatto Il liceo Classico Un attimo Per piacere Un attimo Che devo dire Due cosette Il mio professore Di liceo Praticamente Che era Dirige Di stampo Comunista Diceva Le c'erci Da pagina A pagina E basta Grazie a tutti Grazie a tutti